Sono il dottor Pietro Viscuso e Policlinico Umberto Primo Università Sapienza di Roma. Avevo già visto degli interventi come questo eseguiti con tecnica differente. Questa devo dire è molto interessante sia in termini di praticità che di rapidità e spero anch'io di poter rivedere nuovamente e seguire questa tecnica e la consiglierò eventualmente anche nella sede da cui provengo. Il rispetto al penoscrotale secondo me rappresenta una tecnica più pratica soprattutto da un punto di vista estetico per il paziente giovane e anche in termini di ripresa post operatoria in quanto si può vedere che ci sia una ripresa in termini di attivazione della protesi più rapida rispetto all'accesso penoscrotale. grazie! Grazie a tutti.